Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questa nuova conferenza del primo giorno del Festival di Informatici Senza Frontiere qui a Rovereto. Gli spunti che abbiamo già raccolto oggi sono stati moltissimi, sono stati molto interessanti e forse questa è la conferenza che un po' tutti oggi aspettavamo. L'ospite che ci presenterà i suoi lavori, i suoi studi è un ospite di spicco. A livello sicuramente internazionale, allora di cosa si parla oggi? Il titolo della conferenza di adesso è Etica di genere nell'intelligenza artificiale, algoritmi maschilisti e pregiudizi femminili. Il tema quindi è quello del pregiudizio legato all'algoritmo e delle cause che generano problemi e rischi negli algoritmi che permeano la vita quotidiana di tutti noi, che derivano dallo sbilanciamento di genere nel campo dell'informatica. L'ospite di oggi, di adesso, è la professoressa Paola Velardi, professoressa ordinaria di informatica all'Università della Sapienza di Roma con centinaia di pubblicazioni su riviste di alto livello come Artificial Intelligence, Computational Linguistics o The Journal of Web Semantics. La professoressa Velardi insegna le materie di Machine Learning, Web and Social Information Extraction e Business Intelligence. La professoressa Velardi ha ricevuto svariati premi riconosciuti a livello internazionale, come tra gli altri l'IBM e Faculty Award per le ricerche sui sistemi di raccomandazione nel 2017. Lo standard Women International Award ricevuto, consegnatole presso la sede del Parlamento a Montecitorio nel 2019 e tanti altri. Lascio subito la parola alla professoressa Velardi per parlarci di questo tema molto sentito nella comunità di informatici senza frontiere. Grazie, professoressa Velardi, per essere qui oggi con noi. Grazie a lei anche per essersi letto il mio curriculum e aver fatto questo sommario per chi ci sta ascoltando. Allora, come potete immaginare, in questo periodo sto facendo tantissima didattica online, tantissime riunioni online, però questa è la prima esperienza di un intervento ad una conferenza online. Ed è, come stavo dicendo con chi mi ha invitato prima, una cosa abbastanza frustrante, perché io non vedo le vostre facce, non vedo se state attaccati al cellulare invece di ascoltare quello che sto dicendo, non riesco a percepire in qualche modo l'umore di chi mi sta ascoltando. E quindi non lo so quale sarà la mia prestazione oggi come speaker, perché mi manca il feedback da parte di chi ascolta. Comunque cercherò di fare del mio meglio. Allora, adesso partiamo con... Allora, io ho provato una presentazione, mi sono orientata su una presentazione molto divulgativa. mi fa piacere se ci sono delle domande mentre sto parlando e altrimenti mi farà ancora più piacere avere delle domande alla fine dell'intervento. Quindi parto con la condivisione dello schermo. Dovreste a questo punto vedere la mia presentazione. La vedete? Si vede bene? Qualcuno mi deve rispondere. Si vede bene tutto? Ancora non la vediamo. Forse deve ancora partire il PowerPoint. No, è partito il PowerPoint e sono in condivisione. Quindi io dovrei... Forse la finestra selezionata per la condivisione non è quella del PowerPoint. No, è quella che ho usato prima. È quella che ho usato prima. Ok. E poi non ho fatto ripartire il processo da capo, ma è esattamente quello che abbiamo fatto prima durante le prove. Posso interrompere la condivisione? Fantastico, cominciamo subito con dei problemi tecnici. Tanto per animare la situazione. Dunque, adesso poi dovreste rivedermi. Dovreste rivedere me? Sì, adesso, certo. Sì, sì, sì. Share screen. Sì. Premo share. E passo la scelta tra il tuo intero schermo e finestra dell'applicazione. Tremo finestra dell'applicazione, condividi. Ok. Adesso già dovreste perlomeno prendere la condivisione dello schermo. Ecco la mia. Ci siamo. Ok? Vedete adesso? No, adesso vediamo il browser. Quindi... Io sono in... Sono in... C'è davanti a me la presentazione. Ok. Allora si vede che probabilmente... Seleziona automaticamente forse la finestra da condividere. No, beh, io devo aprire... Diciamo, io faccio così con qualsiasi altro sistema. Quindi una volta che sono in condivisione apro la presentazione PowerPoint. Cos'altro devo fare? Del resto abbiamo visto prima. Allora proviamo a consultare i tecnici. Io posso ancora interrompere la condivisione, però... No, è aprire il PowerPoint. E l'ho aperto il PowerPoint. E poi fare share dell'applicazione del PowerPoint. Mi scusi, noi abbiamo fatto delle prove. Io ho fatto esattamente quello che ho fatto le altre volte. E quello che faccio con qualsiasi altro sistema di condivisione. Quindi faccio share screen. Una volta che si vede lo screen... Se si vede lo screen... Non entire screen. No, no, ho fatto share solo dell'applicazione. Esattamente. Eh, però nell'applicazione deve scegliere l'applicazione. E poi dopo la apro. Una volta che ho fatto share screen dell'applicazione, apro la mia. Che altro devo fare? No, dovrebbe aprire la prima. La devo aprire prima. Va bene. Allora la apro prima. Però se la apro prima, io non vedo le operazioni che devo fare. Vabbè, la apro prima. Quindi è aperta, ma non la faccio partire, perché se la faccio partire mi va a pieno schermo. E come faccio a lavorare? No, quella la fa partire dopo. Allora, share screen. Ok. Io farei lo schermo intero. A questo punto mi serve. Comunque, finestra dell'applicazione. Esatto. Qua, condividi. Ok. E adesso la vedete? Adesso sì. Adesso sì. Adesso la vedete. Adesso la faccio. E adesso è partita, o no? La vedete a pieno schermo adesso? Sì. Ok. La vedete o no? Sì, professoressa, grazie mille. Adesso la vediamo bene. Bene, bene, bene. Allora, nel frattempo, quelle tre persone che mi stavano ascoltando se ne sono andate a prendere un caffè, immagino. Sono addirittura aumentate. Sono aumentate. Quindi la suspense ha fatto aumentare il numero di persone. Allora, prima di far partire la presentazione vera e propria, c'è questo che ho chiamato prolegomenon per fare la persona colta. che vuol dire premessa, una breve premessa, prima di partire con la presentazione. Allora, tra le applicazioni di intelligenza artificiale più comuni, forse, diciamo, non tutti siamo consapevoli di questo, c'è Google Translate. Google Translate imita, come le applicazioni di intelligenza artificiale, una particolare competenza, neanche di tutti gli umani, di alcuni umani, che è quella di comprendere un testo in un linguaggio ed essere capace di renderlo in una maniera sintatticamente e semanticamente corretta in un altro linguaggio. Allora, qui abbiamo un esempio. Supponiamo che io voglia far tradurre questa frase, she's a doctor, he's a nurse, in ungherese. Qual è la caratteristica dell'ungherese? Lo vedete se guardate questa finestra. Vedete che gli articoli sono uguali. L'ungherese è una lingua che è neutrale rispetto al genere. E quindi, in realtà, in questa frase non si capisce chi è maschio, chi è femmina. Allora, se faccio una cosa, cioè clicco su quel puntino lì, cioè inverto la direzione della traduzione, ecco quello che succede. Lui è un dottore e lei è un infermiere. Il che vuol dire che nell'incertezza della traduzione del genere in una lingua invece che il genere ce l'ha, il traduttore automatico dice, secondo me, lui è un maschio e lei è una femmina. Però, diciamo che c'è anche un esempio che è reciproco, in un certo senso. Anche Google Image è un'applicazione di intelligenza artificiale, perché ci consente di recuperare, dato un breve testo, una serie di parole chiave, delle immagini che siano attinenti con questo testo. Uno, oramai, è abituato a considerarlo come una cosa naturale, però in realtà recuperare immagini a fronte di parole chiave è un'applicazione abbastanza complessa. E allora proviamo a interrogare Google Image con una parola, nerd. Insomma, vedete che in questo caso lui è un nerd, non c'è dubbio che all'immagine del programmatore bruttino e poco, anche un po' stupidotto, si associa immediatamente una figura maschile. Questo per dire che intelligenza artificiale e pregiudizi di genere, in realtà è una storia di antipatia reciproca fra gli algoritmi e le donne. Le donne sembrano non amare l'informatica, forse alla fine delle fini l'intelligenza artificiale è un po' di più ammesso che vi siano in qualche modo esposte, sicuramente non l'informatica in genere. E sono in questo cordialmente ricambiati dagli algoritmi. Allora, l'intelligenza artificiale, dopo lo vedremo con un pochino di esempi, è praticamente pervasiva. Ci sono molte applicazioni che noi usiamo nelle aziende, negli strumenti che comunemente usiamo, dal cellulare alla domotica, a tanti altri sistemi che vengono utilizzati negli enti pubblici e privati come supporto alle decisioni. A volte che ci sia intelligenza artificiale, in qualche applicazione che ci circonda è abbastanza ovvio, Alexa è l'esempio più noto, che è capace di rispondere alle nostre richieste, di comprendere quello che stiamo domandando. A volte invece l'intelligenza artificiale è un po' più come nascosta sotto le coperte, per esempio ci sono moltissimi algoritmi che vengono utilizzati adesso in tante applicazioni, per esempio nell'ambito medico, nell'ambito delle riparazioni, nell'ambito della gestione aziendale. Queste applicazioni, anche altre che noi stessi usiamo molto spesso, poi ne parleremo, sono un po' nascoste sotto le coperte, cioè l'intelligenza artificiale c'è ma non sempre si vede. Ed è proprio, vorrei dire, sotto le coperte che si annide il diavolo, perché se questi algoritmi non vengono progettati con una specifica attenzione a dei principi etici, possono incorporare dei pregiudizi e riprodurre gli stereotipi che gli umani stessi hanno incorporato. E tra questi stereotipi ci sono ovviamente anche gli stereotipi di genere. Quindi il pregiudizio non è soltanto un pregiudizio di genere, è un problema più generale, però oggi in particolare parleremo dei pregiudizi di genere. Del resto, nella seconda parte di questa presentazione volevo anche un po' rivoltare la frittata, osservando che poi esistono anche dei pregiudizi di un genere, in particolare delle donne, nei confronti degli algoritmi. Quindi se gli algoritmi hanno degli stereotipi, sono in questo cordialmente ricambiati dalla maggioranza delle donne. E questo si riflette in un'assenza preoccupante delle donne nel settore dell'informatica in generale. Però curiosamente, poi ne parleremo nella seconda parte, questi stereotipi non è che riguardano come uno può pensare la capacità o meno delle donne di eccellere nelle discipline informatiche. Cioè il pregiudizio che le donne hanno nei confronti dell'informatica non è tanto relativo al fatto che loro non si sentono in grado di affrontare una disciplina che è da maschi, ma piuttosto una errata percezione che le donne hanno dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. E come vedremo, lo stereotipo del nerd è proprio quello, diciamo, c'ha una certa influenza non trascurabile, oltre ad altri fattori nel dissuadere le donne dallo scegliere questo tipo di studi. Se non ci sono domande, che io invito tutti a fare, tanto le posso vedere poi, mi è stato detto, in una finestra della mia presentazione. L'ordine delle cose che voglio raccontare oggi è questo qui. Prima ho bisogno di darvi una pillola di intelligenza artificiale, quindi proprio di spiegare in termini molto semplici quali sono le caratteristiche di un sistema che tra virgolette si possa definire intelligente. Poi presenterò diversi esempi di pregiudizi di genere negli algoritmi, poi cercheremo di capire dov'è che si può annidare il pregiudizio di un algoritmo, cioè in quale fase della costruzione di un sistema di intelligenza artificiale si può inserire un elemento che poi produce un comportamento che sia frutto di un pregiudizio. Che cosa si sta facendo sia per evitare di avere degli algoritmi con dei pregiudizi, sia di scoprire se questi algoritmi hanno meno dei pregiudizi e poi passiamo al problema speculare, cioè del fatto che neanche alle donne piacciono gli algoritmi un granché. Da che cosa questo pregiudizio è motivato? E poi, insomma, questa è una domanda retorica, che vedete, più donne in informatica meno pregiudizze gli algoritmi? Ok, quindi possiamo passare al primo argomento. L'informatica è ovunque, l'informatica è l'intelligenza artificiale, adesso ancora di più, ma non è che ce ne accorgiamo sempre. Soprattutto i nativi digitali sono talmente abituati ad operare applicazioni di vario tipo, per esempio internet, il web, i cellulari stessi, le telecomunicazioni, le reti sociali, tutti questi sono esempi delle più comuni scoperte degli informatici che hanno veramente rivoluzionato la nostra vita, non soltanto la vita di tutti i giorni, ma anche il modo che noi abbiamo di lavorare. L'intelligenza artificiale è un'area, è una sottoarea dell'informatica, anche questo vedo che per esempio tra i giovani non è così evidente. L'intelligenza artificiale sono quegli algoritmi che simulano gli umani nelle loro capacità, e queste capacità sono per esempio la capacità di comunicazione verbale, di riconoscere l'ambiente che ci circonda, di ragionare, soprattutto di prendere delle decisioni. Qui vediamo insomma un'illustrazione di quelle che sono le principali competenze che un algoritmo vorrebbe cercare di riprodurre che sono tipiche dell'intelligenza umana. Una è l'intelligenza linguistica, cioè la capacità di capire quello che ci viene detto e di rispondere in maniera appropriata, oppure di fare delle traduzioni se abbiamo questo tipo di competenza. La percezione, che è la capacità di riconoscere l'ambiente circostante, le immagini, anche quando sono magari fortemente perturbate. La capacità di imparare, imparare dai nostri errori, imparare perché ci viene insegnato da qualcuno, comunque di migliorare le nostre prestazioni rispetto a dei compiti. La capacità di ragionare e tutto questo va, insomma, sono tutte le competenze che ci servono per il compito principale che è quello di risolvere problemi, che possono essere dei problemi più semplici, come quello di decidere che preparare a cena o quali film vedere ha problemi enormemente più complicati. Cioè, la vera capacità degli umani e che le macchine cercano di imitare, perché è questo che in realtà è utile, è la capacità di risolvere dei problemi. Ci sono diversi settori in cui le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono utilizzate. In generale, sistemi di supporto alle decisioni, per esempio nell'ambito di trasporti, che vuol dire ottimizzare, anche per dirne una, l'apertura e spegnimento del traf, delle luci, scusate, dei semafori, per ottimizzare il flusso delle macchine o trovare qual è la strada più rapida per muoversi da un punto all'altro o date certe condizioni. Le moltissime applicazioni, diciamo, questo è veramente un settore di punta all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare i processi decisionali in ambito medicina, ma poi anche nella tecnologia della preparazione dei cibi, nella manifattura, in finanza, nei viaggi, nel commercio, nel real estate, e nella cultura dell'intrattenimento. Praticamente in tutti i settori l'utilizzo di intelligenza artificiale può migliorare, supportare gli umani nelle loro decisioni e ottimizzare i processi. Ci serve adesso una piccola pillola di base perché altrimenti non riusciamo a capire come succede che poi un algoritmo possa incorporare dei pregiudizi. in un qualunque ambito, cioè in qualunque settore di applicazione dell'intelligenza artificiale. Allora, concentriamoci su quel particolare tipo di sistemi automatici che si chiamano i sistemi di machine learning che sono quelli che vengono utilizzati per supportare delle decisioni. Per esempio, se assegnare o meno il credito ad un utente che sta chiedendo credito da parte di una banca oppure che tipo di cura prevedere per un paziente a partire dalla sua storia clinica e moltissime altre applicazioni di questo genere. Allora, l'elemento chiave è che in realtà i sistemi automatici imparano in una maniera che non è molto dissimile dagli umani. Spesso noi impariamo le cose guardando quello che hanno fatto gli altri. Non è il solo modo di apprendere. Noi impariamo anche per prova e diciamo il risultato della nostra prova, cioè provando un po' a caso. Però la cosa di cui vogliamo interessarci adesso è proprio gli algoritmi che imparano viceversa utilizzando dati storici, cioè esempi di decisioni che sono state magari prese da umani nello stesso ambito. In realtà gli algoritmi non conoscono i meccanismi decisionali umani, però osservando dei casi storici in cui le decisioni sono state prese, per esempio concedere o non concedere un prestito, allora vengono messi a disposizione l'algoritmo tutta una serie di dati che riguardano richieste di credito con tutte le informazioni relative che sono state fornite dall'utente e poi la decisione finale che è stata presa dall'umano, cioè assegnare o non assegnare il credito. Analogamente posso avere delle cartelle cliniche in cui so qual è l'esito che ha avuto una particolare cura o l'esito finale del trattamento di un paziente e l'algoritmo può cercare di trovare in qualche modo delle regolarità dei dati, regolarità proprio intendo delle regole insomma, delle cose che tendono a capitare più frequentemente e osservando questi dati in qualche modo generalizzano e creano, deducono un modello di predizione, ma se ci pensate noi umani ci comportiamo esattamente nello stesso modo, osserviamo delle cose identifichiamo delle ripetitività e a un certo punto nella nostra testa elaboriamo un meccanismo di decisione che poi siamo in grado di utilizzare quando nel futuro ci si presentano delle occasioni simili quindi quello che il sistema tira fuori è un modello qualunque cosa sia questo modello comunque è un modello che consente poi a suggerire una decisione per dei casi nuovi per esempio nuove richieste di credito il modello ci aiuterà a decidere se è il caso di concedere questo credito perché dai dati a disposizione chi lo chiede sembra sufficientemente affidabile oppure se c'è un elevato rischio nel affidare nel concedere questo credito quindi una volta che questo modello è stato appreso viene messo in una situazione in cui è in grado su dati nuovi cioè su appunto per esempio utenti nuovi o pazienti nuovi di fare delle predizioni io spero che questo sia sufficientemente semplice magari è troppo semplice per qualcuno di voi ma che sia sufficientemente semplice per chi viceversa di intelligenza artificiale non ne sa assolutamente nulla allora in tutto questo bisogna capire che la benzina degli algoritmi cioè gli algoritmi possono essere più o meno sofisticati però la benzina degli algoritmi sono i dati più dati storici si hanno a disposizione più gli algoritmi sono in grado di generare dei modelli predittivi che sono precisi cioè dare suggerimenti che diciamo che sono giusti però poi vediamo che cosa succede quanto giusti sono allora vi faccio semplicemente un esempio questo esempio è proprio il più stupido modello che un algoritmo di machine learning può generare si chiama albero di decisione in realtà presento questo perché è un esempio di modello che chiunque può leggere allora immaginate che qui l'idea sia di approvare un prestito bancario quindi si hanno a disposizione per ogni richiesta di credito alcune informazioni per esempio qual è l'età qual è il reddito quanto mediamente tengono mettono da parte ogni mese cose di questo genere un algoritmo di decisione funziona così supponiamo che adesso questo è veramente pensate molto semplificato avrà migliaia di variabili che descrivono tutti gli elementi che possono supportare una decisione però tanto per fare un esempio semplice supponiamo che a questo punto abbiamo questa signora Jenny Smith che è femmina 30 anni guadagna è bella ricca perché guadagna all'anno 200 mila euro e in banca mette da parte 500 euro al mese allora se io voglio decidere se concedere o no il credito a questa persona non devo fare altro che seguire questo albero di decisione allora qua sopra c'è l'età che età c'ha questa persona 30 anni quindi è meno di 40 anni per cui mi muovo su questa linea dell'albero di decisione a questo punto l'albero di decisione mi suggerisce di andare a guardare quanto guadagna questa persona vado a vedere questa persona guadagna 200 mila l'albero di decisione dice maggiore di 166 mila vatte la pesca come ha trovato quel dato lì particolarmente però quello che ci sta dicendo è che se sono verificate queste due condizioni cioè se a meno di 40 anni e se il suo reddito supera questa quantità allora io il credito lo devo garantire quindi questo è il suggerimento che il sistema mi darebbe ora come dicevo è ovvio che nella realtà i modelli sono molto molto più complessi di questo e incorporano centinaia di descrittori e non soltanto quattro ma era solo per fare un semplice esempio il modo con cui l'algoritmo genera questo albero di decisione è proprio guardandosi tanti casi in cui a certi utenti sulla base delle variabili che ne descrivono le caratteristiche un utente umano ha deciso se assegnare il credito oppure no e anche quello che è successo dopo se questo credito è stato onorato o meno beh uno dice ma se gli umani sono in grado di fare questo compito da solo perché mai io dovrei rivolgermi a un algoritmo che magari chissà che cosa come riesce a generare questi modelli allora beh ci sono diverse ragioni ma la cosa più importante è che un umano generalmente è in grado di analizzare pochi dati pensate a un medico lui si è no diciamo la sua esperienza si basa principalmente sui casi che lui ha visto esistono viceversa milioni e milioni di cartelle cliniche di vari pazienti guardare questi dati tutti insieme ed essere capace di analizzarli è una cosa che un umano non è in grado di fare e questo vale per qualsiasi altra applicazione tanti dati un umano non è in grado non è in grado di analizzarli non è in grado di capire quali sono le relazioni tra le variabili le variabili poi possono essere molte migliaia semplicemente la nostra testa non ce la fa a ragionare su tutte queste su queste variabili questi possibili parametri quindi un primo motivo è che un umano su compiti molto molto complicati banalmente non ce la fa la seconda cosa è che una volta che io ho generato un modello posso in tempo reale utilizzando questo modello fare delle previsioni non ho bisogno di avere 10-20 operatori di credito che si stanno a guardare tutti i dati magari utilizzo l'algoritmo per i casi che sono diciamo così più semplici e sottopongo a doppio controllo di un umano soltanto alcuni casi che sembrano un po' più strani o idiosincratici rispetto all'altro quindi in generale gli algoritmi aumentano enormemente l'efficienza e l'efficacia dei processi decisionali umani inoltre uno si aspetterebbe che siccome un algoritmo si affida a un'evidenza oggettiva dei dati sia consistente nelle sue decisioni cioè una volta che è generato un modello decisionale lui decide se le cose stanno così lui decide sempre così è consistente ora è vero che gli algoritmi sono consistenti ma il problema è un altro dobbiamo domandarci se gli algoritmi sono oltre ad essere consistenti sono oggettivi allora la prima considerazione a fare è che i sistemi di apprendimento automatico si basano su dati che sono creati dall'uomo sono creati sono raccolti sono gestiti dall'uomo e quindi sono magari vengono un po' elaborati prima di essere sottoposti ad una macchina però sostanzialmente questi dati sono il risultato di contenuti che sono generati da esseri umani ancora nelle cartelle cliniche ci sono appunto i vari operatori sanitari che le riempiono stessa cosa per le application per avere credito e altri esempi questo vuol dire che qualsiasi pregiudizio sia esso conscio o inconscio negli esseri umani viene poi incorporato negli algoritmi e qualche volta succede che viene anche amplificato quindi il principio di questi algoritmi è che nei processi decisionali umani cioè che gli uomini si comportino in maniera razionale e quindi quello che loro fanno è in qualche modo quello di scovare la razio nei dati storici però non è vero che i dati sono sempre razionali e poi c'è anche un altro problema che chi scrive il programma lui stesso può avere dei pregiudizi anche quelli inconsci e anche quei pregiudizi possono essere incorporati nel codice che il programmatore scrive per nell'intento di utilizzare questi dati al meglio in altre parole possiamo dire che gli algoritmi riproducono e aumentano le disuguaglianze o le discriminazioni esistenti io direi che facciamo qualche esempio perché sono tanti e sono non saprei dire se tristi o divertenti allora cominciamo da uno che è molto famoso questo perché ha fatto parecchio scalpore un imprenditore danese ha raccontato che sua moglie a sua moglie è stato negato un aumento della linea di credito con la Apple Card nonostante lei avesse un punteggio di credito più alto del suo quindi diciamo tutti i suoi parametri fossero migliori addirittura Apple che utilizza un algoritmo per decidere se assegnare il credito o no ha deciso che addirittura il limite di credito del marito dovesse essere 20 volte il limite di credito della sua moglie e Hanson e la moglie hanno una volta che si sono accorti di questa cosa hanno iniziato una sorta di battaglia dapprima col servizio clienti di Apple poi andando sempre più a fondo nel loro reclamo e Apple continuava a insistere che non c'era nessuna discriminazione perché era un algoritmo che prendeva questa decisione come se questo per definizione volesse dire che l'algoritmo era oggettivo e di conseguenza diciamo la sua valutazione non poteva essere essere tacciata di sessismo alla fine di tutta questa di tutta questa battaglia la linea di credito di Jamie Hanson è stato aumentato però la coppia ha ribadito di non essere riuscita ad affrontare la radice del problema in realtà il marito l'ha messa giù abbastanza più dura di così e insomma in maniera abbastanza impronunciabile ha tacciato Apple Card di essere decisamente sessisti nel loro comportamento allora la prima cosa abbiamo imparato che per le banche le donne sono clienti meno affidabili degli uomini l'altra cosa è che gli assistenti virtuali sono donne gli scienziati virtuali sono uomini allora non è un caso questa è anche un'altra notizia diciamo di cui si è parecchio parlato sui giornali questo fatto che i chatbot gli assistenti virtuali abbiano tutte voci femminili e in genere anche piuttosto sexy e questo sono femmine tutti gli assistenti virtuali che sono pensati per facilitare il lavoro d'ufficio e prendere appunto delle riunioni insomma le segretarie ecco non è nemmeno un caso che uno dei programmi di intelligenza artificiale più apprezzati più famosi il famoso Watson il quale ha passato il test di Turing tra un attimo parliamo un attimo di cosa sia questo test di Turing allora lui ha una voce maschile ciò significa questa cosa sembra diciamo quasi uno scherzo in realtà invece è molto importante perché le generazioni che stanno crescendo ad ora imparano a dare comandi ad assistenti digitali con invece femminili ed imparano che gli scienziati artificiali sono maschi e questo va molto male per tornare al test di Turing chi di voi ha visto The Information Game che è la storia di Alan Turing che è praticamente il fondatore dei moderni computer lui immaginò questo test che si chiama appunto il gioco dell'imitazione di imitation game che dà il titolo al film sulla storia di Turing e questo test funziona così allora c'è uno schermo che separa due diciamo così due agenti uno è un giudice il giudice è un umano questo giudice deve fare delle domande a chi sta dall'altra parte di questa parete di separazione dall'altra parte può esserci una macchina oppure può esserci un altro umano se il giudice dopo aver fatto parecchie domande non è in grado di capire se dall'altra parte c'è un umano oppure se c'è un'intelligenza artificiale allora quella intelligenza artificiale ha superato il test di Turing e per tanti anni c'è stata una sorta di gara che veniva fatta tutti gli anni con premi abbastanza consistenti questo anche in anni recenti e nessuna macchina in realtà riusciva veramente a superare il test di Turing e la prima che c'è riuscita è questo Watson che è sviluppato da IBM però adesso l'era dell'intelligenza artificiale è molto più diciamo a prodotto degli agenti artificiali che sono molto più frequentemente in grado di passare questo test digressione era questo allora poi c'è l'esempio sempre tornando ai nostri esempi di discriminazione c'è l'esempio che abbiamo già visto degli algoritmi di traduzione automatica e per cui l'ungherese neutro viene tradotto con una discriminazione di genere allora vabbè per l'italiano un po' di meno nel senso che l'italiano è un po' incerto lui non lo sa ha messo è un dottore sarà donna sarà uomo però su lei che è un'infermiera non c'è nessunissimo dubbio l'inglese è se vogliamo un po' più sessista perché non ha nemmeno dubbi sul fatto che il dottore possa essere un maschio ora a onor del vero devo dire che dopo che questa traduzione sessista è stata scoperta c'è stata una stale ondata di proteste a google che se voi ci provate adesso quello che succede è che lui vi dà tutte e due le traduzioni cioè se voi adesso so ah accidenti se sottoponete ancora questa questa traduzione lui vi traduce she's a doctor she's a nurse he's a doctor he's a nurse e poi vedetevela voi se sono maschi o se sono femmine in qualche modo anche google translate si è adeguato altro esempio sei una donna e non ti riconosco allora questo ha a che vedere con gli algoritmi cosiddetti di riconoscimento facciale io immagino che tutti voi e molti di voi abbiano tutti i cellulari più moderni hanno questa caratteristica per cui se voi cercate immagini di una persona che avete etichettato con un certo nome voi stessi o qualunque dei vostri cari l'algoritmo è capace di riconoscere nel vostro album di fotografie tutte le foto nelle quali esistono immagini di questa persona e riesce a farlo anche in condizioni molto difficili in cui per esempio questa persona ha cambiato taglio di capelli ha un cappello ha degli occhiali cioè nel tempo la capacità di riconoscimento facciale da parte degli algoritmi di riconoscimento automatico è aumentata in maniera straordinaria una ricerca che è stata basata sull'analisi di molti sistemi di riconoscimento facciale ha però dimostrato che i sistemi non sono ugualmente bravi a riconoscere qualsiasi tipo di faccia e in particolare viene identificato erroneamente sorry viene identificato erroneamente circa l'1% dei maschi dalla pelle chiara mentre invece un pochino di più più di errori vengono fatti il 7% di classificazioni errate si riferiscono a femmine dalla pelle chiara gli errori aumentano con i maschi neri e si arriva al 35% di errori per femmine dalla pelle più scura e vi assicuro non dipende dal fatto che la pelle scura magari con uno sfondo scuro è tecnicamente meno riconoscibile sei una donna nera non so chi sei siete tutte uguali questo è un altro esempio ancora più triste sei una donna non ti assumo questo esempio si riferisce al rivenditore online Amazon che ha una quantità di forza lavoro gigantesca immagino che a causa del covid la loro forza lavoro sia quasi raddoppiata come i loro introiti e quindi capite che per Amazon fare delle assunzioni e guardarsi manualmente i curricula delle persone che fanno application è un lavoro che richiederebbe di assumere una forza lavoro apposita a analizzare curricula di applicants quindi loro che cosa hanno fatto hanno deciso di sviluppare degli algoritmi che aiutino a capire se un curriculum è o meno interessante in particolare avevano sviluppato un algoritmo per riuscire ad individuare curricula di persone che fossero in grado di scoprire di identificare curricula buoni per posizioni manageriali ad un certo punto diciamo si è scoperto che l'algoritmo di reclutamento che loro utilizzavano aveva un forte pregiudizio di genere ora Amazon non è precisamente considerata un'azienda particolarmente fair ma ha interrotto l'utilizzo di questo algoritmo allora come succedeva questa cosa perché ricordate quello che vi ho raccontato cioè che gli algoritmi utilizzano dei dati storici quindi loro che cosa facevano? si hanno sottoposto a questo algoritmo di apprendimento automatico dei curricula di persone che erano state assunte in ruoli manageriali in un periodo di circa dieci anni e il problema è che questi curricula erano prevalentemente di maschi bianchi che cosa è successo? L'algoritmo non era tanto capace di identificare delle competenze pertinenti all'interno del curriculum ma piuttosto trovava degli schemi di parole cioè associava certi schemi di parole nel linguaggio con la decisione finale che era stata presa di assumere o non assumere quella particolare persona e quindi in qualche modo l'algoritmo aveva finito aveva finito per cercare all'interno di un curriculum delle particolari parole o frasi che siccome erano state apprese particolarmente da curricula maschili tendevano a scartare i curricula femminili il linguaggio maschile è diverso da quello femminile il linguaggio maschile è più infarcito di termini che hanno a che vedere con l'ambizione e la carriera quello delle donne la passione e l'impegno sociale e io direi che sarebbe una buona cosa se sia da una parte che dall'altra si imparasse un po' ad essere diciamo a prendere l'uno dall'altro cioè un po' più di interesse per la carriera e per il denaro da parte delle donne non guasterebbe e un po' più di passione e meno diciamo così tendenza a cercare di scrivere dei curriculum che siano decisamente machos sarebbe una buona cosa anche per loro detto questo insomma tornando al nostro problema il software di intelligenza artificiale penalizzava qualsiasi curriculum che ottenesse parole più frequentemente usate dalle donne declassando dei curriculum di donne che avevano invece delle abilità anche importanti con conseguente pregiudizio di genere e vabbè poi ci sono tanti altri esempi però questi sono i più i più eclatanti che che ho scovato nella letteratura passiamo adesso ad un altro tema dove si annida il pregiudizio in un algoritmo vabbè diciamo un esempio ce l'abbiamo già avuto cioè vi ho spiegato nell'esempio precedente che il motivo per cui l'algoritmo declassava i curricula i curricula femminili è che i dati storici che gli erano stati dati in pasto erano prevalentemente dati storici di curricula scritti da maschi allora il primo tipo di pregiudizio esattamente il pregiudizio che si annida nei dati se sottopongo a un algoritmo dei dati che non sono bilanciati e che quindi non rappresentano statisticamente la realtà delle cose bene l'algoritmo tenderà ad imparare anche lui delle informazioni che non sono bilanciate come appunto nell'esempio del reclutamento dei manager Amazon quindi in qualche modo è come se l'algoritmo impara nell'imparare i processi decisionali di qualcun altro ne perpetra anche il pregiudizio per un algoritmo tutti gli indicatori tutte le informazioni sono potenzialmente utili per lui il nome l'indirizzo il genere il reddito nel caso per esempio della concessione di una linea di credito a priori hanno tutto gli algoritmi sono ingenui a priori loro non scartano nulla però considerate questo esempio allora supponete che io ho un esempio di due richieste di credito voi vedete voi vedete che gli indicatori età reddito e soldi che vengono messi da parte ogni mese sono uguali per tutti e due i casi però la decisione finale in un caso è stato che il credito è stato negato nell'altro caso la decisione finale è stato invece che il credito è stato assegnato allora l'algoritmo dice beh questi campi età cioè che cos'è che mi differenzia questo caso da quest'altro visto che questi tre indicatori sono gli stessi non può essere il nome perché il nome è diverso per ogni individuo quindi non è che io decido sulla base dell'individuo quindi l'unica possibilità è che l'indicatore che differenzia l'uno dall'altro sia il genere e quindi scoprirà magari che alle donne a parità di condizioni è stato negato il credito più volte e di conseguenza lui in maniera del tutto neutra ripropone lo stesso schema decisionale e il che poi rappresenta lo stato delle cose cioè rappresenta il fatto che agli uomini viene concesso il credito più facilmente che alle donne il che benché non sia esplicito è dato dalla natura dei dati cioè è evidente è una specie di elemento sommerso che però l'algoritmo cattura i dati oltre a contenere già dei pregiudizi perché non sono rappresentativi possono anche essere incompleti per esempio nell'esperimento dell'analisi facciale la scarsa capacità di riconoscere volti femminili dalla pelle più scura era semplicemente dato dal fatto che quando si è creato il dataset storico immagini di donne nere ce ne stavano di meno quindi l'algoritmo ha potuto addestrarsi di meno su quel tipo su quella categoria di individui mentre aveva molti esempi di maschi bianchi e quindi su quel particolare tipologia di immagini l'algoritmo si è addestrato di più e quindi è diventato più bravo ci sono poi altri paradossi per esempio a volte non è che sia tanto un pregiudizio ma semplicemente che non si sono guardati bene i dati un esempio è dell'università di Berkeley che a un certo punto è stata accusata di sessismo nella missione ad una scuola di specializzazione perché risultavano ammessi molti più uomini che donne qui ci avviciniamo un po' all'argomento successivo perché poi andando a vedere in realtà in proporzione le donne venivano ammesse ai corsi di laurea in numero inferiore rispetto agli uomini semplicemente perché le donne facevano meno domanda quindi avevano presentato molte e meno domande tenendo in conto questa disparità in realtà la probabilità di ammissione era leggermente superiore vabbè quindi diciamo che ci sono molti esempi diciamo molti motivi per cui un algoritmo può incorporare può incorporare un pregiudizio non ultimo quello anche del programmatore cioè un programmatore può tendenzialmente inserire delle regole che rappresentano il suo modo di vedere le cose ma detto ciò a noi ci interessa anche capire come evitare come scoprire i pregiudizi degli algoritmi come avere degli algoritmi che sono più si parla di fairness che sono che sono che quindi non hanno un comportamento pregiudiziale ci sono sembrerebbe facile accorgersi con l'algoritmo dei pregiudizi questi gli esempi che vi ho fatto in realtà sono emersi per caso non è che sia così facile e perché non è facile accorgersene beh perché i modelli decisionali sono opachi cioè voi avete visto quell'esempio all'inizio in cui il modello poteva essere tradotto in regole ma in realtà i sistemi non so qualcuno di voi ha sentito parlare di deep learning di reti neurali gli algoritmi soprattutto quelli di ultima generazione di intelligenza artificiale in realtà forniscono dei suggerimenti ma non sono in grado di dire che cosa motiva questi suggerimenti il modello è un complesso sistema di equazioni che non sono interpretabili da un umano e quindi l'opacità è uno dei motivi che non consente facilmente di accorgersi che un algoritmo ha un pregiudizio inoltre i dati di cui gli algoritmi si nutrono possono essere incompleti quando i dati sono milioni e milioni big data anche a volte miliardi e miliardi non è tanto facile capire che questi dati non sono bilanciati o non sono rappresentativi proprio per la loro dimensione o per esempio che non si siano raccolti dati sul microcredito o su uno speciale ambito quindi problemi nei dati problemi negli algoritmi non sono facili da rilevare perché i dati sono troppi e perché gli algoritmi sono opachi ci sono diversi metodi per mitigare il pregiudizio nascosto negli algoritmi allora uno dei diciamo anche un'area di ricerca che sta emergendo adesso è proprio la cosiddetta bias detection che vuol dire appunto scoprire il pregiudizio ci sono in qualche modo degli algoritmi che sono stati progettati apposta per scoprire se un certo algoritmo ha un pregiudizio la seconda il secondo metodo è quello dell'interpretabilità cioè rendere gli algoritmi capaci di giustificare le loro decisioni giustificarle a un umano cioè in maniera che un umano lo possa capire come nell'esempio delle regole che abbiamo visto prima consente di ad un umano di accorgersi che c'è qualcosa che non va nel ragionamento della macchina per esempio quando una decisione di rifiuto del credito è stato capire se questa decisione è giustificata dal fatto che il richiedente non abbia abbastanza soldi o perché non ha rimborsato presidi nel passato o perché è donna è chiaro che potrebbe aiutare a risolvere identificare il problema però come vi ho detto la maggior parte degli algoritmi allo stato dell'arte di machine learning non sono interpretabili e il terzo elemento è quello di avere un quadro normativo e anche questa è una cosa alla quale la comunità europea sta lavorando questo per esempio Equitas è un sistema di di bias detection quindi è uno dei primi sistemi che si è in grado di fare una sorta di screening di un programma e dei dati e di capire se esistono dei pregiudizi l'interpretabilità come vi ho detto è un'area di ricerca che si è aperta recentemente che ha proprio l'obiettivo di far sì che l'algoritmo possa in realtà rispondere con qualcosa di significativo sia in grado di giustificare le proprie predizioni il quadro normativo per esempio ci sono degli esempi ci sono queste due associazioni che sono due importanti associazioni di informatica ICM e IEEE che hanno emesso delle raccomandazioni e dei quadri normativi anche la comunità europea ci sta lavorando per per appunto essere in grado di certificare l'assenza di un pregiudizio all'interno di di un algoritmo e qui c'è un link se volete vedere ok io non so se ho altro tempo o no avrei circa un altri dieci minuti per parlare della seconda cosa cioè sul fatto che neanche a noi piacciono gli algoritmi però mi posso anche fermare qui ditemi un po' voi mi dicano gli organizzatori che cosa devo fare gli organizzatori già dormono quindi grazie stiamo seguendo appassionatamente la sua presentazione devo dire che siamo tutti qui al tavolo concentrati ad ascoltarla ci credo ci credo ci credo e ci sono alcune già domande che la platea vorrebbe rivolgerle e se vuole possiamo cogliere l'occasione di questa pausa dalla presentazione per rivolgerle e però poi credo comunque che ci sarà ancora del tempo sicuramente i dieci minuti per finire la presentazione non le verranno tolti e anzi forse di più ecco qua già vedo postata una domanda che arriva dal canale youtube quindi la possiamo leggere insieme la può leggere lei professoressa devo interrompere la condivisione per vederla gliela leggo io ok allora chiede uno spettatore come si può adattare ad una realtà in evoluzione un modello allenato su dati storici e statici prima lei faceva riferimento al processo di addestramento dei modelli basato su un dataset storico ecco forse oggi viviamo in una realtà che evolve rapidamente la stessa tecnologia è il driver principale del cambiamento e quindi come ci si può aspettare che un modello allenato su dati storici statici si comporti in una realtà che giorno per giorno cambia allora diciamo esistono diverse categorie di algoritmi ci sono gli algoritmi per i quali ovviamente tutto dipende da quanto i dati siano dinamici esistono diversi settori di applicazione nei quali i dati non sono particolarmente dinamici quindi un riaddestramento riadattamento dell'algoritmo può essere necessario ci sono anche algoritmi che si adattano in maniera incrementale cioè si genera un modello e questo modello è in grado di diciamo così perfezionare e migliorare le proprie prestazioni tanto per farvi un esempio ci sono i cosiddetti assistenti virtuali o anche gli algoritmi che capiscono la loro voce voi noterete che questi algoritmi più noi li usiamo più imparano e più sono in grado di adattarsi al nostro comportamento e alla nostra realtà quindi la risposta è che se i dati sono statici o cambiano molto raramente sarà sufficiente fare diciamo ripetere il processo con una certa cadenza ci sono però algoritmi che sono dinamici io le faccio un esempio allora supponiamo di voler costruire un sistema che è in grado di classificare i messaggi twitter come positivi o come negativi in generale oppure in un particolare dominio allora io non mi aspetto che il linguaggio di twitter delle persone cambi drasticamente da un anno all'altro quindi diciamo una volta che ho imparato un modello di classificazione questo modello è good enough per andare avanti per un po' invece un sistema per esempio di raccomandazione cioè un sistema che debba essere utilizzato per proporre degli acquisti ad un individuo ha bisogno continuamente di adattarsi quindi ha bisogno di osservare il nostro comportamento in tempo reale di adattare il proprio diciamo il proprio modello di predizione quindi esistono algoritmi dinamici che usano sempre dati storici ma come dire la linea temporale di questa storia si sposta via via che il tempo passa penso se è chiara la risposta certo la risposta è chiarissima professoressa grazie e le leggo un'altra domanda che ci rivolge la platea la domanda è questa un algoritmo sarebbe in grado di emettere una sentenza ma anche di esplicitarne una dettagliata motivazione allora l'applicazione di intelligenza artificiale in ambito giuridico esiste quello che viene fatto adesso è una cosa meno rischiosa di far emettere una sentenza ma è quello di allora qual è un problema che nel decidere insomma nell'organizzare un un certo processo di giudizio è molto importante trovare la normativa precedente e i casi precedenti quindi vengono molto utilizzati i documenti algoritmi di comprensione del linguaggio naturale i quali si vanno a guardare e a identificare casi storici che sono simili ai casi al caso considerato in maniera che molto più rapidamente e molto più facilmente l'avvocato oppure il giudice possa consultare appunto i giudizi che sono stati emessi in precedenza il problema dell'algoritmo giudicante allora il caso dell'algoritmo che giudica una causa rispetto all'algoritmo che che per esempio fa effetto una diagnosi o prescrive una cura o che concede o non concede il credito sono in realtà la stessa cosa se l'algoritmo ci aiuta a prendere decisioni per adesso esistono soltanto pochissimi casi in cui l'algoritmo sostituisce l'umano precisamente questi sono i casi in cui per l'umano è pericoloso stare in un certo ambiente allora c'è il robot che si muove in questo ambiente pericoloso e prende le decisioni all'interno di questo ambiente perché se lo facesse un umano sarebbe pericoloso però in tutti questi altri casi in realtà diciamo si cerca di fare in modo che l'algoritmo sia almeno in grado di dare una probabilità alla propria decisione cioè dire quanto lui è certo o incerto e chiedere ad un umano di andarsi a controllare nel dettaglio i casi di incertezza questa cosa oltretutto viene fatta ad un livello diverso a secondo del rischio di una decisione sbagliata perché lei capisce che non dare un credito vabbè diciamo così è una cattiva cosa però condannare un innocente oppure prescrivere una cura che poi fa morire o star peggio un paziente è una cosa che diciamo sono delle cose molto diverse quindi un elemento allora come citavo prima la giustificazione cioè l'interpretabilità è un problema di ricerca solo una categoria di algoritmi che sono cosiddetti gli algoritmi che si basano sulla logica sono in grado di generare delle regole e giustificare in una maniera comprensibile ad un umano la loro scelta peccato che questi algoritmi non siano lo stato dell'arte cioè sono degli algoritmi che spesso non sono molto bravi a prendere decisioni rispetto agli attuali sistemi cosiddetti di deep learning e neural net certo ok vabbè diciamo che ti rossi vorrei parlare di più ma meglio sì grazie professoressa mi hanno avvisato dalla regia che abbiamo altri dieci minuti per stare assieme e dopodiché lasceremo spazio per la conferenza successiva quindi chiedo a lei quale potrebbe essere il modo migliore per allora guardate in questa seconda parte io parlo del fatto che le donne non scelgono informatica allora posso anche non parlarne questa è una cosa di cui io mi sono tanto occupata in passato ho fatto diversi progetti però non è che io ne debba necessariamente parlare quindi se ci sono tante domande io continuo a rispondere alle domande di questa parte non parliamo allora io direi che è assolutamente rilevante interessante anche questa tematica perché è stata anche ripresa in vari altri incontri nella giornata di oggi quindi un po' ci si aspettava di sentire la sua posizione e se poi si possono ritagliare quindi gli ultimi due o tre minuti per le ultime domande allora possiamo dare spazio ancora a qualche domanda quindi le lascio ancora un po' di tempo professoressa per parlare di questo tema a cui siamo tutti interessatissimi va bene d'accordo allora cercherò di farlo nel modo più veloce grazie allora partiamo subito con una cattiva notizia che c'è veramente una percentuale bassissima di donne nelle professioni che sono legate all'information communication technology ora questo numero può essere 3% può essere 10% dipende un po' dalle nazioni per esempio in Italia si aggira intorno al 10% e posso testimoniare che il numero di donne che si iscrivono per esempio se voglio dare dei dati più locali a Sapienza nel 2014 ci sono laureati 7352 maschi ed un numero io adesso purtroppo siccome sto è 11589 femmine quindi si laureano molte più donne che uomini a Sapienza questo è un dato un po' generale se uno va a vedere questa è una tipica aula di medicina lo vedete un po' anzi c'è una leggera predominanza di donne specialmente in alcune specialità a lettere qua gli uomini sono lago in un pagliaio ci sono laureati per esempio qui sono dati il 14 le percentuali non sono molto cambiate adesso circa un migliaio di maschi e 3500 femmine eccoli qua degli sparuti maschietti e purtroppo le nostre aule sono veramente infelici l'unica femmina sta qua su nascosta in un angolino cioè le femmine sono veramente poche sono sottorappresentate nell'area di ricerca sono sottorappresentate nel mondo di lavoro e questo trend è costante cioè non si vedono anzi addirittura negli anni 90 2000 quando c'è stato un primo boom delle discipline informatiche di donne che si scrivevano informatica ce ne stavano di più di chi è la colpa beh allora io diciamo veramente le cause sono tante però visto che c'è solamente dieci minuti ho pensato di concentrarmi soltanto su una motivazione che uno potrebbe pensare non è importante e invece lo è lo stereotipo del nerd allora se voi andate sul vocabolario e cercate qual è la ma ce ne so anche se guardate su più di un vocabolario allora giovane di modesta prestanza fisica dall'aspetto insignificante che compensa la scarsa avvenenza e le frustrazioni che ne derivano con una passione ossessiva una notevole inclinazione per le nuove tecnologie questo è il modello lo stereotipo del nerd uno potrebbe pensare ma dai non può essere veramente influente invece sono stati pubblicati parecchi studi su questo tema dimostrando che anche se non è l'unico fattore ce ne sono altri che non ho che non ho il tempo di analizzare adesso ma che ne so anche il fatto che tutti gli insegnanti delle scuole inferiori sono donne che comunque viene poco essendo noi immersi dall'informatica tendiamo a non capirne il valore creativo però ecco hanno fatto queste indagini che ci hanno chiesto degli studenti che scuole superiori di scrivere la parola computer scientist informatico e le parole più comuni che sono state usate sono maschio intelligente poco attroente a sociale ossessionato dalla tecnologia però il problema è che le donne tendono a usare particolarmente questi ultimi aggettivi mentre gli uomini tendono a usare di più questi altri aggettivi quindi lo stereotipo del nerd effettivamente colpisce soprattutto le donne incluse le insegnanti che sono prevalentemente donne nelle scuole perché in qualche modo è incongruo su questa cosa della socialità dell'essere chiuso su proprio di essere un pesta tasti è proprio diciamo qualcosa che è particolarmente incongruente rispetto alla tradizionale identità del genere femminile che è tendente al sociale e tendente alla comunicazione e quindi il problema non è che noi dobbiamo mettere un nuovo test di accesso a informatica per cui se non sono belli, muscolosi e sorridenti non li ammettiamo il problema è che probabilmente dobbiamo comunicare molto di più la creatività di questa professione ora esistono decine forse più di progetti che sono stati che non sono nemmeno tutti a guardare questi sono soltanto alcuni dei moltissimi progetti sia italiani che in Europa che in America che cercano di affrontare il problema con varie modalità qualcuno funzionicchia diciamo però nessuno sembra veramente funzionare e il problema è diciamo perlomeno a livello nazionale il problema è che non c'è che questi interventi non scalano sono interventi che sono in qualche modo intrapresi da gruppi prevalentemente formati da donne in realtà prevalentemente piccole non c'è un vero intervento governativo su questo tema la buona notizia è che lunedì mattina prossimo abbiamo una convocazione di un piccolo gruppo da parte del ministero dell'università in cui dovremmo parlare di questo e a me piacerebbe molto che fossero intraprese delle azioni e queste azioni devono essere delle azioni che devono essere intrapresi il prima possibile perché quando le ragazze arrivano al liceo hanno già deciso che vogliono fare medicina lettere che l'informatica proprio no perché è una cosa poco greta e questo è grazie professoressa è evidente quale sia no certo certo ha risposto un po' alla domanda di cui tutti volevano sentire una risposta oggi e vorrei chiudere con un suo ultimo commento proprio una battuta veloce perché nella sua presentazione ci ha parlato di come gli algoritmi e i sistemi informatici stiano un po' raccogliendo quelli che sono dei bias sociali che si sono instaurati a livello storico e come li ripropongano poi nelle scelte e nelle decisioni che compiono allo stesso tempo però affermava che ci sono dei sistemi per valutare come gli algoritmi siano come dire sì contengano un pregiudizio contengano grazie contengano un pregiudizio e è vero forse che la tecnologia può aiutare a risolvere questi pregiudizi non so per esempio faccio riferimento alle funzioni obiettivo le funzioni obiettivo che vengono definite dai programmatori quando si devono addestrare i modelli le rule function o le loss function insomma possono essere utilizzati dei parametri dei fattori che incentivino per esempio l'algoritmo di facebook ad assumere donne per esempio quindi a combattere il bias sociale attraverso la tecnologia questa possibilità lei la intravede o la esclude? capisce che una cosa del genere è un pregiudizio e l'incontrario cioè io posso allora quello che lei sta dicendo se io posso un po' come fare la legge sulle volte rosa esatto allora quello che lei ha detto è una cosa un po' tecnica ma abbastanza precisa allora ci sono il modo con cui un algoritmo impara è che cerca di minimizzare l'errore sui dati questo errore io questa modalità di ottimizzazione dell'algoritmo io la posso un po' alterare mettendo delle penalità oppure dei premi quindi io potrei diciamo premiare di più in qualche modo alterare la funzione di valutazione in maniera che premi di più il fatto che l'algoritmo scenda quindi una cosa analoga alle quote di genere ora questo è altrettanto da dibattere quanto lo sono le quote di genere in realtà quello che in genere fanno questi algoritmi è cercare di guardare bene nei dati allora loro partono dall'idea che conoscere quale tipo di pregiudizi vogliono scovare cioè pregiudizi genere pregiudizi nella distribuzione dei dati bla bla ci sono dei metodi statistici che consentono di capire se nei dati storici che vengono forniti al sistema ci sono delle alterazioni che non corrispondono che sono strane in qualche modo che non rispondono alla realtà dei dati e anche ci sono come dire delle domande tranello che possono cercare di scoprire questo quello che lei dice cioè il fatto di fare un'alterazione voluta sul sistema di decisione per premiare delle decisioni che per esempio siano a favore delle donne non mi risulta che venga fatto ma più o meno ha le stesse implicazioni delle quote rosa potrebbe essere fatto cioè questo è perfettamente possibile grazie grazie mille professoressa è stato un enorme piacere poterlo avere qui con noi in questa prima giornata del festival spero che questa occasione si possa ripresentare anche nelle edizioni degli anni prossimi purtroppo dobbiamo chiudere e non c'è altro spazio per le domande che stanno arrivando dal pubblico grazie ancora sì ma le potete sempre fare avere magari io posso rispondere a parte grazie certamente arrivederci grazie molte arrivederci grazie grazie